Salve a tutti, Domenico Giordano della Giordano Brokerage Est, siamo qui da Mosca, dalla Prodexpo, ricordiamo la più grande fiera del settore agroalimentare in Russia. Siamo in compagnia del signor Savino Agresti dell'Agrolio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ho visto che sei in Russia qui per la prima volta, quali sono le più impressioni sul mercato e come vedi le possibilità di lavorare in Russia e le impressioni sulla fiera? Ma vedo una buona propensione del mercato russo e del consumatore russo per i prodotti da noi portati per la prima volta in questa manifestazione Prodexpo e ritengo che ci potrebbe essere un buono spazio anche per i nostri prodotti. Ricordiamo che produce olio in vari formati. Olio extravergine di oliva con nuove tecnologie di estrazione, principalmente estratto sotto vuoto, ciò significa che il prodotto è integro e genuino fino alla tavola del consumatore. La fiera la vedi come uno strumento valido? Torni a casa soddisfatto di questo evento? Assolutamente sì, anche perché l'Ice che ci ha permesso di venire a questa fiera è stata molto utile e sicuramente è il mezzo e il metodo migliore per farsi conoscere i mercati in cui non si è presente ancora. La fiera rimane uno strumento ancora valido. Ricordiamo che questa edizione della Prodexpo è la 25esima e l'Ice è ritornato a gestire la collettiva italiana in questa fiera, quindi è un passo molto importante per dare un segnale molto forte che l'Italia vuole sempre di più lavorare in Russia. Noi ringraziamo Savino di questa esperienza, se volete informazioni sull'azienda sotto il video troverete un link all'azienda per conoscerla. Noi vi salutiamo, mettete il vostro like a questo video e condividetelo con chi vuole avere informazioni sulla Russia. Arrivederci. Grazie a tutti, buona giornata.